Prossimo! Qua non metti palia. Prossimo! Prossimo! Sì, mettiamo l'altra. Ma quante ore già hai filmato? 8. Io? Non lascio la strada, no? Sì, sì, va bene. Ma come sono belle le ragazze del metrano. Un'ora di trucco? Al circo non è così. Va bene? Ah, spero. Per il momento sì, ma poi non lo so. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Ma grazie da un confio. Sì. 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 Questi artisti venuti del mondo, con una competizione, un filmico. Il clou de bronze. Clou d'argent. Il clou d'argent. Il clou d'or. Il clou d'argent. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.